Musica Bella a tutti ragazzi Oggi siamo ritornati Nella rush Verso il drago Nello scorso video abbiamo trovato Questa caverna qui e mi sono un po' sistemato Fatto devo ancora prendere Tutta la roba che c'è qui Hey wake up Si si sto registrando Hey wake up Sto registrando Un saluto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti al prossimo video Ok Allora dicevo Intanto si le legate di minecraft Devo prendere Prima di tutto il ferro che appunto Non ho preso nello scorso video Poi si l'ho preso però Mi raccomando supportate anche questa serie Nell'erdity survival Se non mi sbaglio dell'episodio dell'altro ieri Vi avevo chiesto un bel po' di like E li abbiamo raggiunti Quindi mi raccomando Spolliciate come dei matti Anche qui Tra l'altro non so perché minecraft Minecraft mi sta facendo Di questi cali Che cos'è Ok Ora si è ripreso Non lo so Riprendere le cose a minecraft Ma che ne so io Comunque Allora Oggi avrei intenzione Come sempre Di andare in miniera Quindi ci facciamo Prima di tutto Gli stecchini Così Vabbè gli stecchini I bastoncini Perché Dobbiamo farci il piccone Perfetto Che poi uno potrebbe pure passare Si Non è male Qui Ok Mettiamoci pure questo qui E penso basta Penso basta Quindi noi Andiamo assolutamente Giù in miniera Perché dobbiamo andare a trovare qualcosa E tra l'altro Mi serve anche del piccone Eh sì Vabbè vabbè Sì oggi è giornata Lasciate perdere Oggi è giornata Mi serve Mi serve anche Un po' di tor Cioè mi servono Quindi Facciamo così Ci facciamo tanti Bei bastoncini 26 Vanno più che bene E facciamoci così Oh Ora Si Che È Vita Sperando di trovare una bella miniera Cioè una bella grotta Una bella miniera Ma pure dei diamanti Eh Posso pure non trovare la grotta Per me Cioè non è il problema Però mi devi dare almeno dei diamanti Per forza Tra l'altro ho dei capelli di merda Perché si me li sono andati a tagliare E E tipo Sembra che ho preso la scossa elettrica Infatti Oh Mamma mia Proprio Cioè la mamma mia Proprio Mamma mia Allora Aspettate un attimo Piano 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 Ok che qua ragazzi Vi ricordo che abbiamo solamente Una fottotissima vita E quindi Sapete no No carissimo Ti voglio bene No no io ti ho Madonna che cazzo Spiterina di grotta Ho trovato Testa di minchia Morì 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 Raga Oh Mon amore Figlio di puttana Prendiamoci il carbone Perché ci serve Per forza Poi tra l'altro vabbè Cioè voi dovete sapere che Mi devono chiamare Er carbone Perché si Perché è normale È normale Guardate quante minchia la trovo Cioè Ok la centrale Ok la centrale E la centrale Questa qui La centrale del carbone Sì Però magari mi dai Anche qualche bel diamanterrimo Sai Uh Ok abbiamo anche del ferro Ci prendiamo Raga io mi prendo tutto Io non lascio niente Vabbè la faffancula del carbone Che dopo un po' scassa Pure la tre quarti Loro Madonna Guarda qua Cioè vabbè Vabbè Io adoro l'oro L'ho detto pure nell'RDT survival Adoro l'oro Adoro pure il ferro Il carbone mi fa cagare Però mi tocca prenderlo Perché sennò come minchia Cuocio le cose Quindi mi tocca anche Prendere quello lì Allora Dall'altro Lì Non vedo nulla Penso poco che sia chiusa Da quella parte La grotta Vediamo Penso poco di sì Penso poco di sì O invece continua Continua Oh ma dove Ok Continua Oh no è chiusa Ah ok perfetto Vabbè Comunque sì Diciamo che è chiusa Qui c'è anche tanto bel oro Che raga serve L'oro In questa serie qui serve Perché Non vi aspettate tanto Tra un po' di episodi Andiamo a cercare tutto Dobbiamo poi Andare a caccia di enderman Per forza Per trovare gli enderman E raga E' dura come cosa Veramente dura 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 come cosa Tra l'altro vi dico che Tra meno di una settimana Diciamo sì Una settimana Io dovrò andare in alternanza Scuola lavoro Che praticamente è come se Devo andare a lavorare Solamente che non ti pagano E' una cosa che Come se tu vai in scuola Solamente che vai Da qualche azienda Ad esempio da me Che faccio l'alberghiero Vado In uso il ristorante E quindi Non so se riuscirò a fare video Però Oppure un video al giorno Perché come state vedendo Sto facendo un video al giorno Quindi non so Se Continuerò a fare Un video al giorno Può essere che ne farò uno Non lo so Due settimane Tre settimane Perché Potevo pure vedere Gli orari che ci sono Perché magari sono degli orari Scemi Quindi posso pure Continuare Normalmente con un video al giorno Ripeto Devo un attimo vedere Però Se i orari sono Molto Molto Tosti La vedo dura Che continuo a fare Un video al giorno La vedo seriamente dura E tanto abbiamo trovato Maddo Che caverna Che caverna abbiamo trovato Mamma mia Tanto dice pure un creeper Aspettate Oh Ho rischiato Come non mai Maddo Cioè Io qua forse Non ho capito Che sono in Modalità estrema Cioè Non l'ho capito Mi ha fatto prendere un colpo Pipistrello di merda Ma quanto carbone Oh A me il ferro Piace Però il carbone No Il carbone Cioè Vabbè Ma io qua scavo E trovo altre cose Vabbè Lasciamo perdere Che è chiuso Però A me il ferro Me ne puoi dare pure In quantità industriale Cioè Non mi fa schifo Il carbone invece Mi rompe un po' le palle Però cerca di darmelo Un pochettino meno Non è che dico Perché poi di ferro Non siamo neanche messi male Siamo veramente Messi bene Oppure Ronaldo bene Vedo Non vedo l'ora di scendere In quella cosa In quel buco lì Con l'acqua Con il creeper Megagalattico Quindi andiamo da questa parte Però devo fare molto attenzione Madonna Ma quanta attenzione devo fare Ma assai attenzione Ah Mi butto piano piano Ok E chiudo Già che sto anche l'acqua Perfetto Ah Raga Non dovrebbe essere un problema Io corro subito Perché qui Ho visto un creeper Che se va a esplodere Posso dire addio alla serie Ok Allora sì Ciao ciao carissimo Ciao carissimo Ah Non esplodere Anzi si esplodi 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 No Che cazzo mi rido Cosa mi rido Cos'è che mi rido Che stavo per perdere la serie Cosa mi rido Perché mi son dimenticato Che in questa serie Non ho nulla Praticamente di armatura Mi son proprio dimenticato E mi son pure dimenticato Di farmela l'armatura Perché comunque I pezzi di ferro Ce li ho Ho rischiato come non mai Nel vero senso della parola Comunque Continuiamo un attimo ad andare Sperando solamente Che non ci siano altri creeper Malvagissimi E ovviamente Lì vedono zombie Madonna mia Aspettate 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 Allora amici miei Vi chiudo l'acqua Così almeno fate più In fretta a venire Dai 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 Vieni vieni Ti aspetto a campo Eh abbraccio aperto Dai Fuori Sì raga Capirai Qua c'è la giungla Di zombie Ok Perfetto 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 Allora Mamma mia Quanta roba Quanta roba c'è Poi vabbè Giocando a minecraft Il tempo vola nel vero Senza la parola Siamo già 10 minuti Fissi fissi Però con i tali Saranno 5-6 minuti Io mi faccio Sti calcoli qui raga Mi faccio letteralmente Sti calcoli Perché a me piace Giocare a minecraft E penso che l'avete notato In tutti praticamente Quindi non è che sto Badando Mo Quanto devo giocare Mi faccio i calcoli No A me Fin quando vai a giocare a minecraft Posso giocare pure 40 minuti Che poi con i tali Vengono 10-15 minuti Però Proprio per quanto sto parlando Tra l'altro sono stortissimo Ma ne sono accorto solamente adesso Sì io ho vizio Quando devo giocare E gioco così Non so perché Allora 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 Vai continuiamo da questa parte Raga mi scrivete Se per favore Voi vedete The Walking Dead Che sì Oggi una chiacchierata Voglio fare proprio Una chiacchierata con voi Perché siccome è iniziato E voglio Ho intenzione Di fare in realtà Un Una specie di Video reaction Una cosa del genere Ai video No raga Aspettate Chi è questo Ha fatto Mentre un colpo Era lui Era lui Madonna raga Mi ha fatto Mentre un colpo E qua c'è del ferro Neanche me ne ho accorto Buono 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 Vai con calma C'è ancora del ferro Io non lo vedo più Sì qui dentro c'è Veloce Prendilo 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 Ok Perfetto Perfetto sali Ok Vai così Lava Signori lava Signori lava Lavami il buco del culo Ok Altre 48 Continuo a prendere Mi devo fare per forza La crafting Con questi qui Per forza Allora vai Vediamo qui Magari mi dai qualche diamante Ma proprio Ma proprio Me li posso Sognare qui diamanti Ma nel vero senso Dalla parola Dai Dammi il diamante Dammi il diamante Guarda come si scende Guarda che bella Mamma mia Senti che qua Forse lo troviamo Il diamante Con calma Perché qui Se vado a cadere Sono cavoli Non come l'era Ditti Il survival Che per fortuna Sono caduto nella lava Però non mi sono fatto Un'emerita ceppa Di banana E qui non vedo niente Vabbè Ma che Sfiga di merda Però Ma che Sfiga Guardate quanto Bell'oro Mamma mia Ma dove sta Ma non l'avevo mai visto Nella vita Tutto quest'oro Comunque Signori Io direi che questo video Può finire qui Ovviamente In off camera Salirò sopra a casa E metterò a cuocere Tutta questa roba Guardate quanto Bel ferro Vi manca tanto Bel oro Comunque il carbone Non Non ci manca mai Signori Se vi è piaciuto Lasciate tanti Bel like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora Non l'avevo fatto E lo possiamo Osservarti E ciao Comunque Comunque